Sono stati approvati dalla Giunta Comunale, su proposta dell'assessore allo sport Clara Pastorelli, i progetti esecutivi per la valorizzazione di sei campi da calcio. Si tratta degli impianti di Ponte San Giovanni, Ponte Pattoli, Ponte Felcino, Pretola, Collestrada e San Martino in campo. Gli interventi per una somma complessiva di 583 mila euro sono finanziati nell'ambito del PNRR Missione 5, Inclusione e Coesione, componente 2, riguardanti infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. Sono investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. Nell'ambito dei lavori sono previsti la demolizione di annessi in pessimo stato di conservazione, la realizzazione di una nuova struttura da adibire ad attività di supporto agli spogliatoi esistenti del campo da calcio di Collestrada, un'ulteriore nuova struttura da adibire a magazzino per il campo di Ponte Pattoli, la sostituzione del manto in erba sintetica di uno dei campi di Ponte San Giovanni, la rimozione di materiali pericolosi come amianto, il ripristino di impermeabilizzazioni e finiture, il ripristino del calcio estruzzo faccia vista di una gradinata, la messa in sicurezza dell'impianto di Pretola mediante sostituzione degli infissi di velti e nuove opere al fine di prevenire atti vandalici e ancora la realizzazione di un impianto fotovoltaico a San Martino in campo, alcune opere impiantistiche e altri eventi secondari. Grazie.